Dobbiamo dedicare un pensiero all'Emilia perché a un anno di distanza dal terremoto che nel maggio del 2012 ha colpito questa regione, Mirandola riparte dal suo centro storico organizzando una bella manifestazione dal 16 al 20 maggio, un'edizione speciale della tradizionale fiera cittadina. Oggi la priorità è la ricostruzione del centro storico, il sistema produttivo, le scuole, gli impianti sportivi ma anche quella della comunità e della sua identità e quindi la fiera di Mirandola riprende proprio con l'intento ambizioso di riattivare il centro storico come cuore pulsante della città. E quindi sono tanti gli appuntamenti in programma, noi ve li segnaliamo perché sabato prossimo il 18 di maggio a partire dalle 19 sarà previsto il passaggio delle Mille Miglia, la corsa per auto storico più bella del mondo e ancora domenica 19 invece salirà sul palco di Piazza Costituente Paolo Belli insieme alla sua Big Band. E poi altra protagonista immancabile sarà la gastronomia perché ci sarà una vasta gamma di prodotti tipici e quindi insomma degustazioni a go go. Quindi vi ricordiamo sabato 18 e domenica 19 tutti in piazza a Mirandola e siamo vicini alle Mille, a forza. Davvero, davvero, un pensiero a tutti gli amici emiliani e naturalmente tenete Mirandola sotto controllo nei prossimi giorni.